Decine di metri di roccia e 42 anni di lavoro. Da qui, a inizio, la storia di oggi. Questa volta la persona che incontreremo non vive isolato in qualche angolo del pianeta, ma in un paese di 4000 abitanti in provincia di Sondrio. Qui in paese lo chiamano il Gaudì di Grosio. Si chiama Nicola e 42 anni fa ha iniziato un'enorme costruzione che non ha ancora terminato. Così abbiamo deciso che la nostra ricerca di prospettive diverse doveva passare anche da qui. Ora qui tra queste case di montagna dovrebbe spuntare la nostra destinazione. Eccola! Wow! Incredibile! Ok, forse abbiamo identificato Nicola Lassù Nicola ci dà il benvenuto e siamo pronti ad affrontare insieme le lunghe scale alla scoperta di questo luogo Grazie Se ti posso servire Va bene, grazie Cosa ti ha portato? O piatti o... Una vicina? Non la conosco Si vede che avevano piatti da smaltire allora me la portano qui Nicola usa materiali di recupero per le sue decorazioni Vasi rotti Bottiglie Specchi Questo è uno di quei luoghi ricchissimi di dettagli in cui si ha la consapevolezza di notarne soltanto una piccolissima parte Qui ad esempio ho questo mantegno Che cos'era? La branda del letto Perché hai deciso di utilizzare questo tipo di materiali? Piovomarcato Hai già pensato a dove li metterai? No, viene tutto spontaneo Spontaneo è stato anche lo sviluppo di quest'opera nei decenni senza che Nicola avesse un'idea precisa in testa Com'era qui se ci devi descrivere una mattina del 1981 Aprivi la finestra della tua casa, guardavi qua e cosa vedevi? Roccia Ora le cose sono un po' cambiate Scendevano un po' di sassi e invece di farlo fare all'impresa Mio marito ha iniziato da solo a fare questo riparo E ha visto che le veniva bene Automaticamente è andato avanti Siccome che non avevo un pezzo di terra per fare un po' di orto Ho cominciato a fare un muretto e dopo avanti Sasso su sassi E sono arrivato in cima Salendo abbiamo visto tante piante diverse Quali sono le piante più presenti che hai qua? Uva Cachi Prugne Noci Fichi Ciliegia Prima di iniziare a decorare Nicola impiega ben 30 anni per lavorare e scavare la roccia Questa è data che ogni tanto vediamo durante la scarinata? Cominciando dall'81 e qui sono arrivato dall'85 Ok, quindi sei partito dal basso e piano piano sei salito Ok, continuiamo a salire 88 Mentre si sale le date scorrono Come un viaggio attraverso i vari decenni di lavoro E mentre si è all'interno di questa scala verso il cielo Non ci si rende conto di quanto questa sia effettivamente alta L'unica più o meno prospettiva completa riesce a darcela il drone Che ci permette di capire l'effettiva dimensione di questa creazione incredibile Decisamente più grande dell'abitazione in cui Nicola vive Qui, Nicola, quanto si paga il biglietto per visitare questo posto? Niente Niente? Niente, niente Perché devo pagare? Non l'ho fatto per scopo di lucro Per cui cosa ha spinto Nicola a intraprendere questa impresa? Come ti è venuta l'idea di iniziare a mettere giù tutte queste piccole tessere come un grande mosaico? Non lo so Nicola è un uomo di poche parole e per essere decifrato richiede un certo impegno Ma noi siamo qui per questo Sono abruzzese Ah, e come sei finito qua? Lavoravo dai Visconti Venosto, da una Marchesa che era qui Ho trovato la fidanzatina A 22 anni mi sono sposato Sono rimasto qui a Grossio Parlando con Nicola stupisce questo suo modo di comunicare Molto semplice, all'osso, no? Indispensabile Dopo ho fatto la scuola alberghiera, militare E io ne ho fatta ancora E poi? Lavorato in Svizzera, 35 anni Che lavoro facevi? Il cuoco e dopo ho fatto il ferroviere, 24 anni Dopo il lavoro in Svizzera Nicola va in pensione E inizia a dedicare tutte le sue giornate a questo progetto titanico E quante ore sta o stava fuori a lavorare qui? Ah sì, dalla mattina alla sera La moglie è contenta Che la sera arrivi la sera stanco, non la tormenti Lui era fuori, aveva il suo hobby È come un salvo al matrimonio questo Si vive anche meglio insieme E quei 51 anni di matrimonio, 42 che sono qui I primi 8-10 erano fiamme fuoche E dopo cominciava a far fume allora Un passatempo Mi cani girare nelle osterie che dopo peggiora la situazione però Cominci a litigare alla moglie fuori Viene arrabbiata e dove vai a sfogarti? Con l'alcol È peggiora la situazione del matrimonio E prima di continuare ringraziamo AirUp, ormai fedele compagna di viaggio Si tratta della borraccia che dà sapore all'acqua solo attraverso l'odore E funziona così La si riempie d'acqua Si inserisce il pod che potete scegliere tra un sacco di gusti diversi Infine basta alzare il pod e bere senza inclinare la borraccia Alla base c'è un meccanismo scientifico interessante L'aria profumata del pod inalata dalla bocca ed espulsa dal naso Darà la sensazione di sapore anche se in realtà si sta bevendo acqua pura E l'aspetto che apprezzo in particolare è che grazie a questi aromi naturali Si è incentivati a bere più acqua quasi senza accorgersene Sostituendola a lettante bibite piene di zuccheri e di aromi artificiali Quindi per saperne di più trovate il link qui sotto in descrizione E usando il codice THEPILLOWUP otterrete il 15% di sconto Ora continuiamo con il video Mentre saliamo Nicola ci spiega che soltanto negli ultimi anni Le persone hanno iniziato a venire in visita Complimenti, complimenti Complimenti, veramente È una bellissima Le confezioni E a te fa piacere che la gente venga a trovarti per vedere questo posto? Sono contento di loro Io non farei neanche un passo Io non ci trovo niente di speciale o di particolare Fatto così da spontaneo Questo lavoro per Nicola non ha ambizioni artistiche Ma ha massima importanza nelle sue giornate E c'è un salottino Eh salottino Non mi sono mai seduto io perché non ho tempo io da riposare Davvero? No, no Non hai bisogno di fermarti ogni tanto? Quando sono stanco mi rilento ma non mi siedo E dove trovi tutta questa energia? È una cosa normale Quelli che vanno a fare palestra per venire stanco cosa fanno? Ma io la palestra è questa Ad esempio una tua giornata tipo come funziona adesso? 12 a dormire e 12 a lavoro I telefoni dovrebbero essere tutti come questo Messo in spalla I telefoni sono tra gli oggetti più ricorrenti Così gli chiedo qualcosa a riguardo Tu utilizzi un telefono o qualcosa per contattarti? No Non ne faccio uso, non mi servono Una volta che telefonavano era sempre per qualcosa di grave Adesso parlano per niente Invece di parlare scrivono Non c'è più dialogo Sono andato a Roma, da Milano a Roma E eravamo in quattro Nel scompartimento Ho sentito solo arrivederci Tutto il tempo Con il telefonino Tre ore e mezza senza parlare in quattro Ti è sembrato incredibile? Sì La vita di Nicola scorre ad un ritmo lento Alternando la sua costruzione ad un'altra attività Ed è stata ed è Sono dietro all'agricoltura C'ho la figlia che ha campi agricoli Allora comincia con le ciliegie, mirtilli È diverso da raccogliere qui i mirtilli uno a uno E mettere giù le tesserine dei piatti rotti lì adatte a casa? Passa tempo anche questo L'importante è essere soddisfatto della giornata Essere soddisfatti è migliore che avere soldi in banca O che dopo si viene scemoniti A pensare che fine faranno quei soldi ammocchiati Una volta raggiunta la cima Si può osservare tutto il paese dall'alto Ed è difficile realizzare che tutto questo Sia opera di un uomo soltanto E questa dimensione tua solitaria Senza parlare al silenzio C'ho la radiolina sempre Ti sei mai sentito solo qui? No C'è tutta la visuale tutto aperto Più bella di così Libero Ha per te un valore l'aspetto di fede? Non sono praticante perché non ho tempo di andare in chiesa Io l'ho detto anche al prete Mi ha detto stai lavorando così Il lavoro è preghiera e allora Io prego sempre perché lavoro sempre L'idea è che tu abbia avuto tanta pazienza E la virtù dei forti Se non hai pazienza allora che vita hai? C'è quest'opera che noi vediamo oggi È finita o stai andando sempre avanti? No, no, non è finita Non è mai finita Ce n'è ancora per 42 anni E forse anche per più Ma quel giorno che arriva il carro fune Perché vuol dire che Ok, quella sarà la fine Finita Quindi la potremmo mettere giù così Per le altre persone Non abbiamo capito bene perché vengono Tu non ci trovi niente di speciale Però per te Questo posto ha un valore Mi trovo bene qui Sono abituato a stare tutti i giorni qui È il tuo modo di vivere Sì E questa era la storia di come Pietra su pietra Un uomo semplice Senza ambizioni artistiche Si è riuscito a creare qualcosa di straordinario Quindi grazie a Nicola Per averci accolto nel suo regno E grazie a voi per aver viaggiato con noi Noi ci rivediamo al prossimo video